di nuovo buongiorno Friuli e bentornati in diretta in nostra compagnia per la seconda parte della nostra rassegna stampa dedicata come sempre ai quotidiani eh sportivi nazionali alle pagine sportive dei quotidiani locali c'è ancora l'eco della partita della nazionale sulle pagine sportive dei quotidiani di oggi ma c'è anche il calcio con il pareggio del eh Pordenone c'è anche il basket con la sconfitta della eh GSA spazio poi allo sci al biathlon con Elisa Vittozzi che purtroppo non ha vinto la Coppa del Mondo ma è arrivata a seconda insomma tante notizie eh che eh andremo a leggere assieme iniziamo dalla pagina eh del dalla prima pagina del fascicolo sportivo del eh Gazzettino che apre con il Pordenone Ramarri giochi aperti ieri secondo pareggio di fila in casa della Ternana mentre la Triestina si porta a sei lunghezze a sei giornate dalla fine il Pordenone non può concedersi errori visto il ritmo delle eh inseguitrici il Pordenone torna indietro da Terni e mantiene l'imbattibilità l'imbattibilità esterna ma la Triestina si porta a meno eh sei e allora andiamo a vedere subito il servizio realizzato da Jacopo Romeo a proprio sui risultati eh di ieri della eh serie C eccolo la nazionale saluta Udine ancora una volta la Dacia Arena ha portato fortuna agli azzurri che da qui hanno iniziato il cammino verso Euro duemilaventi una vittoria non scintillante ma comunque solida contro la Finlandia per due a zero col Baby Kenny in copertina una gara vissuta in un'atmosfera da pelle d'oca con lo stadio sold out e debordante di passione nel sostenere gli uomini di Mancini in vista della seconda gara di qualificazione martedì a Parma contro l'Ichtenstein la nazionale si è allenata anche questa mattina al Bruseschi dovendo però rinunciare ad altre due pedine come Piccini e del Sharawi acciaccati e non disponibili per il prossimo match in campo anche Lasagna che dopo la tribuna di ieri sgomita e spera di trovar posto per uno spezione di gara martedì sfruttando le sicure rotazioni che Mancini metterà in pratica oltre a Kevin sono nove nazionali bianconeri ancora in giro per il mondo e Kong è stato come sempre protagonista con la Nigeria nell'ultima gara di qualificazione alla Coppa d'Africa vinta per 3 a 1 dalle Aquile contro le Seychelles a qualificazione già acquisita adesso per lui amichevole martedì contro l'Egitto e poi rientro così come venerdì scorso in amichevole è sceso in campo anche Struger con la Danimarca in campo per tutto il secondo tempo nel match pareggiato per 2 a 2 in extremis sul campo del Kosovo in vista dell'esorto nelle qualificazioni europee martedì sera nel difficile match contro la Svizzera a Basilea per il quale Jens si candida una maglia da titolare i due argentini Musso e De Poli invece sono rimasti a guardare nella brutta sconfitta di Madrid contro il Venezuela dell'Albi Celeste entrambi sperano in un pronto riscatto perché no da torri protagonisti contro il Marocco martedì a Tangeri entrambi saranno a Udine poi mercoledì mattina per rimettersi a disposizione di Tudor così come Nicola Sopoku che ha assistito alla vittoria del suo gana contro il Kenya adesso sarà impegnato martedì nella gara contro il Ruanda panchina anche per Svante Ingelsson nella sconfitta della Svezia Under 21 a Marbella contro la Russia Svante però spera di potersi riscattare già domani contro la Scozia martedì invece toccherà alla Serbia di Peter Micin che se la vedrà in trasferta in amichevole contro la Polonia atteso al riscatto invece restando in tema di Under 21 l'Italia che prepara l'europeo casalingo con finale proprio a Udine lo 0 a 0 deludente di Trieste contro l'Austria ha visto come sempre in campo da capitano per tutta la gara Rolando Mandragora che vuole trascinare i suoi a un successo che mancora mai dalla gara di ottobre contro la Tunisia sarà lui uno dei primi a rientrare a Udine nella giornata di martedì Wilmot invece arriverà soltanto giovedì radice dal doppio impegno con l'Inghilterra Under 20 non è andato bene il primo perso tra 3 a 1 contro la Polonia adesso si spera in un riscatto nella gara contro il Portogallo di mercoledì intanto l'udinese riprenderà a lavorare domani pomeriggio in attesa di vede ricomposto il gruppo per concentrarsi alla gara contro il Geno di sabato un ostacolo non da poco aveva detto Tudor in sede di presentazione ma partire al meglio nonostante l'handicap dei tanti nazionali è un imperativo ovviamente questo non era il servizio sulla partita sulle partite del Pordenone e della Triestina il servizio che ci faceva il quadro sulle nazionali anche sugli impegni dei giocatori e dell'udinese con le rispettive nazionali allora in attesa di tornare a parlare di Pordenone apriamo il collegamento con la polizia locale per fare il punto sulla viabilità oggi al telefono con noi abbiamo il vice ispettore Francesca Silvestri buongiorno buongiorno al momento non si registrano problematiche particolari sulla circolazione il traffico e il fluido scorrevole comunichiamo i lavori che cominceranno oggi il primo in via Colugna di fronte all'ingresso dell'ospedale ci saranno dei lavori di asfaltatura cominciano oggi dureranno due giorni e lì sarà stabilito il senso unico di circolazione in via le Palmanova cominceranno i lavori della nuova rotonda con via all'incrocio con via Partidor e da martedì quindi da domani arriva in piazza primo maggio il Luna Park di primavera quindi ci saranno delle limitazioni alla sosta in adiacenza delle liste centrale ma l'anello comunque sarà sempre percorribile questo è quanto al momento sono i lavori grazie allora al vice ispettore Francesca Silvestri che ci ha ricordato i tre cantieri in partenza oggi via Colugna, via Le Palmanova e poi le modifiche alla viabilità in piazza primo maggio per il Luna Park di primavera e adesso andiamo dalla nostra truppa esterna andiamo dal nostro David Zanirato che si trova proprio in Viale Palmanova buongiorno David buongiorno buongiorno a te Angela e nostri telespettatori e sì come avete ascoltato anche dalle delucidazioni della polizia locale oggi dovrebbe partire il cantiere per la realizzazione di questa nuova rotatoria in Viale Palmanova l'incrocio proprio con via del Partidor siamo proprio qui al momento non si vedono alcuna presenza di ditte incaricate ai lavori alla mia destra vedete lo stabile che è in totale degrado da diverso tempo abbiamo parlato poco fa anche alcuni con alcuni residenti della zona anche loro si dicono un po' scettici possano partire proprio oggi nei giorni scorsi hanno visto del personale delle ditte incaricate a effettuare delle rilevazioni delle misurazioni secondo appunto quanto annunciato dall'amministrazione comunale si dovrebbe proprio partire oggi con i cantieri e poi ci saranno inevitabili ripercussioni per quanto riguarda anche il transito su Viale Palmanova una strada tra le più trafficate della città come potete vedere anche in questa fascia oraria ci saranno dei restringimenti alla carreggiata mentre poi appunto ci saranno anche delle limitazioni delle chiusure per il transito per quanto riguarda chi è diretto anche nella zona della Partidor poi e qui vi facciamo vedere anche grazie al nostro operatore sulla sinistra sullo sfondo vedete al lavoro già invece le ruspe che continuano i lavori di demolizione dell'ex stabilimento della Coca Cola un cantiere partito nell'ottobre scorso che porterà la realizzazione di un nuovo supermercato ma naturalmente al contempo ci saranno anche lavori di bonifica sistemazione dell'intera area che presenta diverse situazioni di degrado proprio i residenti ci dicevano poco fa che attendono da molto tempo questo intervento anche perché questo stabile questo ex distributore che tra l'altro dovrà essere anche bonificato sotto ci sono ancora le cisterne è ricettacolo di persone che vengono qui a stazionare e si introducono proprio anche all'interno dello stabile lasciando naturalmente sporcizia e altre cose una rotatoria questa molto attesa su viale palmanova è una delle tre che dovrebbe realizzare l'amministrazione la prima è già stata ultimata proprio l'inaugurazione nei mesi scorsi lo ricorderete all'incrocio con via meleniano una rotatoria finanziata completamente dal panorama che ha in parte sistemato proprio anche l'afflusso della direttrice verso il centro città si stanno ultimando anche i lavori della pista ciclabile che l'amministrazione comunale ha inserito nel tratto dal sottopasso con viale europa unita fino in viale palmanova e dunque continua la rivisitazione di questo tratto di arteria che appunto dalla città porta verso la zona sud per il momento ci fermiamo qui poi ci sposteremo angela anche in centro per farvi vedere la partenza di altri lavori a te grazie grazie allora davide zanirato per questo flash da viale palmanova prima dell'avvio del cantiere per la realizzazione di questa nuova rotatoria che toglierà uno degli impianti semaforici e storici del viale che porta a udine dal dal da sud il principale accesso alla città da sud e allora ritorniamo sui quotidiani di oggi stiamo parlando di pordenone dicevamo il pordenone che ha pareggiato contro la ternana il gazzettino titola il pordenone tira il freno per vincere non basta il gran gol su calcio piazzato di bombaggi prima di bere il tè all'intervallo il pordenone se ne torna indenne anche da questa trasferta ma non va oltre il pari in casa di una ternana con 27 punti in classifica e poi le parole di mister tesser amaro troppa fatica il tecnico analizza il calo non dobbiamo avere paura e poi l'autore della rete del vantaggio bombaggi che dice stringiamo i denti andiamo a vedere adesso i gol della partita tra pordenone e ternana e anche quelli della triestina nel prossimo servizio due settimane fa i giochi sembravano fatti dopo il blitz esterno nel derby e invece il pordenone frena ancora e vede riavvicinarsi la triestina in classifica la squadra di tesser non va oltre il pareggio sul campo della ternana l'inizio è di marca nero verde con bombaggi che inizia a fare le prove generali del gol raccogliendo la sponda di zammarini e calciando in porta ma trovando la puntuale risposta di gianna rilli è solo il primo sussulto del centrocampista ex regina che infatti nel recupero della prima frazione trova la rete che vale l'uno a zero pordenone fa tutto lui si conquista la punizione e poi va a calciarla magistralmente senza lasciare scampo agli annarilli nel secondo tempo il match si anima e la ternana spinge forte cogliendo la traversa al minuto 17 sugli sviluppi di un corner marilungo fa da sponda per bergamelli che trova però il legno a dirgli di no sette minuti più tardi arriva il pareggio ombro sempre marilungo dai lato un'ottima combinazione con furlan e poi riceve il pallone e va a servire vantaggiato che apre il piattone e non lascia scampo a bindi finisce così al liberati e allora la tristina non spreca l'occasione schianta la san benedettese al rocco succede tutto nella ripresa all'undicesimo ad aprire le marcature il solito diablo granoce che il tuffo di testa fa uno a zero con il suo trecesimo gol in campionato passano otto minuti arriva il raddoppio grande a ripartenza schestrata da petrelle procaccio e finalizzata da costantino che non può sbagliare davanti a sala la mareggiata giuliana prosegue al minuto 69 granoce stavolta si traveste da assist man per petrella che cade il trist arriva anche il 4 a 0 con il diablo che ferma la rete numero 14 del suo campionato ricevendo da costantino liberandosi con una finta e concludendo giro senza lasciare scampo a sala finisce 4 a 0 per la squadra di pavanel adesso a meno seda al pordenone con altrettante partite da disputare e di fatto si è riaperta la corsa a promozione e vediamo anche il titolo del messaggero veneto sul pordenone pari anche a terni la triestina sale a meno 6 non bastano un gran primo tempo nonostante le assenze un super gol di bombaggi nuova rimonta subita nella ripresa e mister tesser che resta tranquillo concentriamoci su di noi e bombaggi lottiamo ancora il margine rimane rassicurante a sei turni dalla fine per la capolista loro hanno reagito e noi ci siamo abbassati è un nostro difetto queste le parole di mister tesser rimaniamo sulle pagine del messaggero veneto ma andiamo a ritroso e andiamo in apertura del fascicolo sportivo per parlare di udinese in questo caso vediamo la foto di igor tudor in primo piano a caccia dei numeri e salvezza dell'udinese sabato la prima sfida che ne ho arrivato tudor deve subito vincere poi altre quattro gare nel giro di quindici giorni tre in eh trasferta la full dimension azzurra ha avuto il merito di stordire un ambiente attanagliato dalle paure di una retrocessione che qui non si materializza da venticinque anni esatti eh togliere eh di togliere pressione a una squadra che appena ha cambiato l'allenatore per l'ennesima volta passando da Davide Nicola e Igor Tudor ritornato in Friuli a dieci mesi di distanza per centrare nuovamente l'obiettivo salvezza ecco la fotografia dell'udinese che dopo la sosta questo sabato affronterà le quindici nel primo anticipo della ventinovesima giornata il Genoa in un match da vincere a tutti eh i costi queste le prime righe dell'articolo di eh Pietro eh Oleotto e poi a proposito di eh nazionali prima abbiamo visto il servizio che parla anche degli impegni dei giocatori dell'udinese con le rispettive nazionali De Paul fuori dall'Argentina potrebbe ritornare eh prima scrive il eh messaggero e poi a proposito di eh nazionale vediamo quagliarella caro Friuli sono senza parole l'udinese spero esca da questa situazione abbiamo sentito anche ieri le parole di Fabio eh quagliarella che ringrazia per l'accoglienza ricevuta con la nazionale e si augura che lasagna and company ce la facciano a rimanere in serie A si è commosso davvero perché un'accoglienza simile non se l'aspettava proprio sembrava fosse un calciatore dell'udinese lo ha sfottuto qualche suo compagno azzurro Fabio quagliarella terrà nell'album dei ricordi più belli la notte del eh Friuli e poi vediamo ancora tutto eh l'articolo e anche l'approfondimento su quagliarella i gole l'azzurro ritrovato a trentasei anni riscatto dopo le accuse infamanti la favola del quaglia vittima di uno stalker che per cinque anni gli ha rovinato vita e carriera ora è come se il bene risarcisse il male e vediamo ancora sempre per quanto riguarda il discorso eh nazionale eh mancini linea verde con vista sul mondiale Ken e la cittadinanza siamo tutti italiani il giovane attaccante dopo il debutto con gol ha detto alla Juve sto bene il mister Allegri mi ha aiutato anche nei momenti eh difficili le parole del presidente della FGC e Gravina dice arrivederci a Udine lo stadio Friuli fa bene all'Italia il presidente della FGC l'ho dal pubblico udinese lascia intendere che la nazionale tornerà orgoglioso il numero uno regionale Canciani pronto alla sfida dell'europeo under ventuno di eh giugno una partita quella eh fra eh Italia e Finlandia giocata a Udine che in tv è stata vista da sette milioni di eh telespettatori. Chiudiamo adesso il eh messaggero Veneto ritorniamo un attimo sul eh gazzettino per tornare a parlare di Udinese prima eh di aprire anche i capitoli dedicati al eh basket e al allo sci vediamo sulla prima pagina del fascicolo sportivo del eh gazzettino prima avevamo visto il titolo sul pordenone nel taglio alto nel taglio basso invece vediamo per quanto riguarda l'udinese Tudor pochi giorni per fare l'udinese il tecnico solo giovedì disporrà anche dei eh nazionali il tempo rema contro Igor Tudor a titola l'articolo nelle pagine eh interne l'allenatore croato deve preparare la sfida di sabato contro il Genoa privo dei giocatori bianconeri impegnati fino a metà settimana con le eh nazionali e anche senza gli infortunati ovviamente una serata magica colorata di azzurro nel segno dell'Italia che ha vinto come da pronostico contro la Finlandia ma anche della Dacia Arena ancora una volta ideale salotto per la nostra nazionale con il pubblico che si è divertito ma da oggi si volta pagina il pensiero fisso dell'ambiente bianconero sarà la sfida di sabato pomeriggio alle quindici contro il Genoa che può valere un'intera stagione e va affrontata al meglio della condizione psicofisica nella speranza che i bianconeri impegnati con le rispettive rappresentative nazionali rientrino all'ovile sani e salvi e con tanta tantissima voglia di conquistare i eh tre punti la ripresa è prevista per questo eh pomeriggio anticipo di un'altra settimana di eh passione ma la paura scrive ancora il eh gazzettino va messa al bando sabato servono sacrificio umiltà e coraggio fattori che il nuovo allenatore Igor Tudor deve cercare di trasmettere a tutti anche se mai come in questo momento avrebbe la necessità di poter rivolare con tutto il gruppo a eh disposizione e poi eh vediamo un po' di eh voci di mercato anche il Napoli sulle tracce di De Polle che potrebbe portare con sé eh lasagna queste alcune voci appunto di eh mercato chiudiamo adesso il capitolo eh udinese chiudiamo il capitolo calcio per il momento e apriamo quello dedicato al basket torniamo sulle pagine del eh messaggero Veneto purtroppo non è stata una domenica positiva per la eh GSA che ha perso in eh trasferta raggiunta nella parte finale della gara il messaggero Veneto titola suicidio GSA partita regalata così non va Udine a tratti domina a Ferrara poi non gioca gli ultimi cinque minuti Simpson irriconoscibile e sbaglia anche il tiro della eh vittoria la GSA butta una partita già vinta squagliandosi come neve al sole nell'ultimo quarto e deve rinviare di un'altra settimana il timbro sulla partecipazione ai playoff il pass per la post season in realtà è l'ultimo dei problemi perché non basta l'assenza di cortese a spiegare la seconda sconfitta consecutiva subita in rimonta la squadra ha compiuto un passo indietro e se vuole recitare da protagonista da metà aprile in poi deve risolvere problemi che sembravano essere stati archiviati con il cambio in eh panchina e vediamo anche un po' di eh voti vediamo le eh pagelle Powell ora è una garanzia l'altro USA un problema sette per eh Powell che conferma di essere un giocatore ritrovato sfoderando una partita da eh nove su dieci al tiro dal campo insieme a Pintone e Pellegrino è il protagonista dell'allungo che sembra schiantare Ferrara possiamo vedere anche alcune immagini della gara suo l'acuto dell'ottanta ottanta purtroppo l'ultimo prima del patatrac finale meno bene in fase eh difensiva non abbiamo detto il risultato finale della gara Ferrara ha battuto Udine di due 82 a eh 80 gli altri eh voti eh sette anche per Pellegrino e Pinton e Nicolic cinque invece per Penna quattro per Simson cinque anche per Mortellaro e Spanghero insufficiente anche eh amici cinque e mezzo eh per lui al suo eh esordio con la maglia eh della più i commenti i commenti di Epedone è caustico scrive il eh messaggero Veneto disastro ci dobbiamo solamente vergognare nel mirino giocatori e anche eh allenatore la rabbia dei tifosi delusi delusi sui eh social ecco anche qui vediamo poi tutti tutti i eh commenti con il coach Martellossi che cerca di trovare il lato positivo della caduta rovinosa arrivata al termine di un match ampiamente eh dominato complimenti a Ferrara dice Martellossi la differenza è stata il sangue freddo nei momenti decisivi volevo una risposta importante alla brutta prestazione di sabato e al periodo complicato che stiamo vivendo e su questo punto ho visto una gara vera intensa è chiaro dice il coach che il ramarico c'è abbiamo perso in quei dettagli che anche contro Cagliari sono stati determinanti come i secondi tiri concessi e i palloni vaganti non siamo riusciti a tenere i nervi saldi nei momenti chiave dobbiamo lavorare tanto ma torniamo a casa con la sensazione di aver giocato una partita importante e non semplice per la situazione che stiamo vivendo queste le parole di coach ehm Martellossi chiudiamo adesso queste pagine dedicate alla GSA perché il momento delle previsioni del tempo e allora subito il buongiorno e la linea a Sergio Nordio in collegamento dallo Smerarpa buongiorno Sergio buona giornata e ben ritrovati condizioni di tempo in cambiamento dopo il cielo sereno e il caldo del fine settimana sta per arrivare un fronte eh che valicherà le alpi nel corso del pomeriggio arriva aria più fredda questo contrasto con l'aria calda presente provocherà maggiore instabilità nel corso del pomeriggio della serata sono attese delle piogge sparse qualche temporale insomma dei grovesci che probabilmente saranno più frequenti sulla bassa pianura e sulla costa invece le zone dell'alta pianura e della zona montana avranno meno probabilità di vedere e pioggia possibile qualche nevicata in montagna ma eh proprio diciamo una cosa passeggera eh diciamo sulle alpi giuglie verso il pomeriggio sera l'aria diventa più fresca comincia a soffiare il vento vento da nord nord est anche sostenuto in quota eh in serata bora sostenuta anche forte sulla costa specie a trieste domani già bel tempo migliora avremo eh cielo sereno un po' unuloso probabilmente non solo domani ma per gran parte della settimana con temperature più basse ritorno al fresco e non tanto domani mattina ma nelle mattinate successive valori minimi in pianura che torneranno a essere attorno allo zero forse anche leggermente sotto quindi con il rischio delle gelate temperature massime domani e i prossimi giorni un po' decisamente in calo rispetto ai valori di ieri resteremo intorno ai quindici diciassette gradi quindi ritorniamo nella media forse anche un po' sotto insomma quindi si attendono comunque belle giornate asciutte ma piuttosto fresche. Buona giornata e buona settimana a tutti. Grazie grazie allora Sergio Norio per queste previsioni eh del tempo un passo indietro dunque per quanto riguarda le temperature per quanto riguarda questa primavera che sembrava già arrivata davvero nei giorni eh scorsi. E allora eh prima di tornare dal nostro Davide Zanirato che vedo già pronto in esterna un passaggio anche sul sullo sci eh perché ieri c'è stata la conclusione eh della della Coppa del mondo di eh Biathlon con la vittoria di eh Dorotea Virer. La Coppa finisce con un grande abbraccio Vittossi dietro Virer è un super risultato. La Sappadina sbaglia troppo nei primi due poligoni poi rimonta e difende il secondo posto nella generale. La pressione mi ha giocato brutti scherzi ha detto ma migliorerò e presto vi assicuro quel trofeo. Sarà eh mio queste le parole di eh Lisa eh Vittozzi la foto e la didascalia la grande accoppiata sulla scia dei trionfi di Manuela di Centa e eh Gabriella eh Paruzzi la sfida fra le due amiche rivali e scrive il messaggero si è dunque conclusa con la grande impresa che inorgoglisce il biatron italiano come ha evidenziato il caloroso abbraccio fra Doro e Lisa a cui si sono aggiunti i valenti eh dei eh tecnici e l'intero team degli azzurri di casa Italia anche per dare risalto a quella che è una forza trainante della squadra l'unione delle forze che regna nel gruppo particolarità invidiata dagli avversari e che consente agli atleti di eh migliorarsi e dare il massimo. Adesso chiudiamo questa pagina del eh messaggero Veneto e siamo pronti per riaprire il nostro collegamento con la truppa esterna con Davide Zanirato da un cantiere all'altro in queste prime ore del giorno. Davide a te di nuovo la linea dove ti trovi adesso? Ben trovata Angela. Sì ci siamo spostati in centro storico in piazzetta Marconi per la precisione per farvi vedere le operazioni che sono in corso eh proprio da stamattina per l'installazione della grande gru che servirà al al cantiere per la riqualificazione della biblioteca Iopi. Vedete gli operai al lavoro eh stanno montando calando con eh questa gru eh dei blocchi di cemento che serviranno poi da peso proprio per la gru fissa che eh sulla piattaforma eh verrà innalzata a proprio disposizione delle maestranze che interverranno all'interno della biblioteca Iopi come vi abbiamo già raccontato in precedenti esterne attenzionata da quest'opera molto importante per la sistemazione del palazzo e della biblioteca stessa e quindi attualmente la circolazione qui in via Mercato Vecchio è bloccata per quanto riguarda la direttrice di Riva Bartolini anche gli autobus oggi verranno eh fatti deviare lungo ehm piazza primo maggio e pare anche una specie di sperimentazione di quello che potrà accadere una volta che eh il cantiere di via Mercato Vecchio la trasformazione di questa via in eh strada pedonale eh porterà dunque anche alla rivisitazione del sistema del trasporto pubblico locale proprio eh con lo spostamento degli autobus eh su altre eh direttrici quindi per chi oggi dovrà arrivare in centro da via eh da via mercato vecchio poi eh obbligata la strada verso via Sarpi per riuscire verso il eh centro opere queste dunque che andranno avanti per tutta la mattinata per la posa di questa gru. A proposito invece di via Mercato Vecchio Angela ricordiamo che oggi sarà una giornata molto importante perché il tema della riqualificazione di questa eh via sarà al centro del Consiglio Comunale che inizierà alle ore diciassette e trenta a Palazzo D'Aronco tantissime eh tra l'altro anche le interrogazioni e le emozioni da parte dei vari consiglieri di opposizione si discuterà tra i tanti temi proprio della decisione della giunta eh questo cambio eh di eh idea proprio sull'utilizzo e sul futuro di via Mercato Vecchio ne abbiamo parlato proprio anche noi la scorsa settimana con le anticipazioni del vice sindaco Michelini che ci aggiornava sul fatto che i cantiere proprio per la ripavimentazione della strada partiranno in due step da a metà fine aprile e poi eh si vedrà poi anche per quanto riguarda l'arredo urbano proprio oggi sulla stampa il sindaco Fontanini annunciava un concorso di idee eh aperto alla cittadinanza per decidere come eh poi abbellire la strada un argomento che continuerà sicuramente a tenere banco nei prossimi mesi in città per il momento da Piazzetta Marconi è tutto a te la linea. Grazie allora Davide Zanirato anche per queste immagini dal centro di Udine da via Mercato Vecchio prove generali di pedonalizzazione vorrebbe da dire proprio per quanto riguarda la parte finale appunto della eh strada. Abbiamo ancora i quotidiani nazionali, i quotidiani sportivi nazionali da analizzare allora subito sulla prima pagina della eh gazzetta dello sport eh vediamo anche qui nel eh taglio alto un'immagine di ehm Dolotea Wierer che ha vinto la Coppa del Mondo di eh Biathlon eh affiancata da una foto delle ragazze della Juventus eh che eh ieri in uno stadio gremito con oltre trentasei mila persone eh all'Allianz eh arena hanno messo un un puntello importante eh sullo scudetto mai così in tanti e tutti per eh loro titola la gazzetta dello sport che sottolinea appunto la presenza di tanto eh pubblico per eh questa partita contro la eh Fiorentina che ha visto la vittoria della eh Juventus viva le donne il lo slogan che accomuna e unisce appunto queste due eh immagini queste due foto a centro pagina invece l'intervista esclusiva ad Andrea Pirlo il maestro del nostro calcio scrive la gazzetta Juve superiore al Barsa dice eh Pirlo Inter e Milan serve di più le canta Pirlo questo il eh titolo per quanto riguarda Icardi e Pirlo dice Icardi e ci rimette più lui che il club Pionten che mi ricorda super eh Pippo e poi in eh casa Inter il ninja eh messo a stecchetto per quanto riguarda il Milan Bacayoko area di eh riscatto si parla ancora di nazionale anche sulla gazzetta Ken Mancini e l'idea balo problema del gol il tecnico pensa a un tandem con eh Mario il felice debutto europeo dell'Italia con la Finlandia apre nuove possibilità Italia che ricordiamolo adesso dovrà affrontare il Liechtenstein e eh vediamo eh una eh curiosità verso Euro duemilaventuno si chiama Schulza il papà di Ischia e ehm lancia i eh tedeschi eh cede cade la eh Croazia la Germania batte l'Olanda tre a due Ungheria due a uno a eh Perisic eh Modric questo è il titolo sulla prima della eh gazzetta andiamo a vedere anche tutto sport anche qui vediamo a centropagina eh un'immagine delle ragazze della Juventus e di Dorotea Wierer bellissime il titolo calcio e biathlon una straordinaria festa della donna e poi invece nel taglio alto la nazionale Juve Blinda Ken tutti pazzi per Moise il suo contratto scade nel duemila e venti Paratici e Raiola trattano parla mamma Isabelle che dice grazie Agnelli te l'ho dato bambino l'hai trasformato in un uomo questa è la prima pagina di è tutto sport andiamo a vedere anche la prima del corriere dello sport eccolo qua il titolo è eh Cesare Nudo Prandelli è l'intervista definitiva mai tante verità in una volta sola dopo la nazionale con il calcio avevo chiuso sono rinato a Genova proprio come dopo la Isella amo Firenze ma la Roma è il mio grande rimpianto trovai l'accordo con l'ottito poi eh Sparì e nel taglio alto Ken abbracciabalo il primo millennial che ha segnato in azzurro giocherà in coppia con Super Mario ma Mancini vuole aspettare l'Italia domani domani con il Liechtenstein cinque eh campi e cinque cambi scusate potrebbe scendere in campo anche Kevin Lasagna in tribuna nella gara alla Dacia eh arena e chiudiamo anche il corriere dello sport siamo indirittura d'arrivo di questa nostra rassegna stampa a me non resta che ricordarvi gli appuntamenti principali di oggi su UD News eh tv noi ci rivediamo alle undici per il consueto eh TG per il primo TG di giornata la prima serata è dedicata invece al eh Tonight con Giorgia Bortolossi e i suoi ospiti appuntamento in diretta alle ventuno la linea passa adesso a Guido Gomirato che ci riporta un po' indietro nel tempo con il suo accadde oggi grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di giornata su D News TV il 25 marzo 2018 moriva a Desio Marco Brandolin ex portiere dell'Udinese dal 1949 al 1952 in questo periodo ha disputato 104 gare con la maglia dell'Udinese 41 in serie B 49 50 le rimanenti 63 in serie A ed è stato il primo portiere dell'Udinese nella massima categoria è cresciuto nella Cormonese poi eh all'inizio degli anni 40 è passato il potenza per tornare alla Cormonese e subito dopo la seconda guerra mondiale è stato adocchiato da un autentico talent scout del calcio italiano Paolo Mazza che lo volle nella SPAL con cui ha militato per due stagioni prima di approdare 1948 alla Lazio dove è rimasto un solo anno anche perché nel frattempo la società capitolina aveva ingaggiato il famoso portiere sentimenti quarto il famoso Cocchi che era di proprietà della Juventus Brandolin venne a Udine voluto dall'allenatore Aldo Olivieri ex portiere campione del mondo nel 1938 con gli azzurri e che evidentemente si intendeva di estremi difensori fu una un acquisto azzeccatissimo Brandolin fu uno degli artefici 49 50 come riferito della promozione storica promozione in serie A dei bianconeri rimane sino al 1952 e a 30 anni passa alla salernitana quindi alla lucchese al pordenone al torres per finire la sua carriera ancora al pordenone stagione 1957 58 brandolin è stato un po il precursore dei portieri moderni perché amava uscire anche fuori area a fungere da libero e questo suo modo di giocare era considerato un portiere pazzarello allora valse la sua trasposizione nel mondo del cinema il comico Walter Chiari lo imitò nel famoso film l'inafferabile 12 e lui interpretava un portiere certo carletto brandoletti che si riferiva ovviamente al portiere dell'Udinese il processo del capitolo di Ancel esce nei pali ora brandoletti si possesse dalla palla avanza il portiere dall'Uventus al centro del campo su di lui si fa zecca brandoletti lo supera termina a terra in possesso ancora della palla la raggiunge esce dal centro della metà campo supera spartano la folla in piedi brandoletti insiste ancora superati 22 centi avanza rosaterra entra quasi in aria supera Andreoli poi tre re solo in area tira rete brandoletti ha segnato la palla di Ancel Grazie a tutti.